Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video Allora, come nello scorso video, visto che l'avevo fatto male Vi avevo detto che se lasciavate un like Vi facevo vedere Final Fantasy 2 La sesta notte, ma non vi preoccupate Perché se questo video, come nello scorso video Arriva a un like Farò tutto per capo le 5 notti Adesso, cominciamo a fare la sesta notte Allora, noi siamo in Final Fantasy 2 Ragazzi, ci stanno un uomo Oh mio dio, mando Ragazzi, eccoci qua Allora, cioè, allora Ragazzi, ora vi farò vedere una cosa Che è un pochino Veloce, sì, veloce Veloce, sì, veloce Oh mio dio, ho proprio Ragazzi, no Foxy Foxy si flasha Sì, questo, nel senso che devi accedere e spingere la traccia Altrimenti non funziona Ciao, è un pochino ma qua c'è una situazione l'albuna Oh no, è un video che è bella no, i ragazzi non si pare per l'albuna e le battere su mantenere non li ho mai visto wow, non l'ho mai visto ahahahahah ahahah Ragazzi sono stato leggermente ucciso Ah la nazione porca La nazione il Ballon Boy mi ha ucciso malamente Ragazzi non ce lo farò mai a finire stasera notte Ma dai Tutto per colpa di Ballon Boy Questa musica significa di sottofondo Eccolo ancora infatti Hi Ah Ah Ok raga ce la stiamo facendo Ragazzi 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 Ho paura Ragazzi ho paura Lurido conizio Lurido Ragazzi ce l'ho fatta Forse raga non copre un detto Hi Nooo Ragazzi Nooo Ragazzi Nooo Ragazzi 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 I ragazzi ma mi ha preso dai ma ragazzi credo che la batteria si è baggata leggermente Dannazione credo che la batteria si è baggata dai ma non le due no ragazzi Ragazzi non ce la facciamo Ragazzi non ce la facciamo Ragazzi non ce la facciamo Ragazzi ci pensate mi fanno handshot Due attacchi Ponte probabilmente No Questo è un po' E ci capita Eppure non lo so No ok Ragazzi lei non mi compare davanti E non me lo figlio in diretta Wow E volevi uccidermi Non mi sto vantando ragazzi Non mi voglio vantare Ragazzi è un brutto sentimento che questa pure questa è aperta Dai siamo l'una di notte Ragazzi non ce la facciamo 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 Ragazzi Ragazzi è un hammer ma già ma già ma già ma già ma già dai per finire stanotte nei commenti se volete chi è? dai siamo le due di notte ok ragazzi ecco la cucina dai ce la faccio raga questo è stato impossibile vabbè facciamo l'ultimo e poi basta poi cercherò di fare un altro gioco dai 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 forse ragazzi forse 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 si forse no ma ciao ma salve guarda te ne vuoi andare in quel paese please wow chi c'è mango? flash fai flash o foxy diventate un superstar hashtag foxy super star guardate crash oh yeah ok ho felato no chi è? allora indovino fox no non foxy attra troppo troppo attrappare attrappare c'è attrappare 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 Ciao! ma che hai dovuto fare ma tu come hai morto ce l'ho fatta ce l'ho fatta non sono morto dai niente raga non ce l'ho fatta perché balonguente non è nella stanza dopo circa un minuto mi ha ucciso foxy raga io stappo qua vi auguro una buona giornata con il video è finito vi auguro una buona giornata ciao